Ciao Danielino! Dopo Totti, non voglio nessun altro romano con la fascia da capitano! Questa frase, poco simpatica me ne rendo conto, la pronunciavo su De Rossi nei primi anni della gestione americana di Pallotta. Era un De Rossi infatti che non rendeva più, se si eccettuano i primi sei mesi di Luis Enrique. Era un De Rossi spremuto della prima gestione di Spalletti alla Roma. Poi l'incontro con Conte, in nazionale, che gli fa tornare quella voglia di lottare fino all'ultimo centimetro, fino all'ultimo metro del campo. In questi ultimi tre anni De Rossi ha impersonato, come pochi altri, il vero e proprio romanismo. Ciao Daniel, con il tuo licenziamento, perché di licenziamento si è trattato, perdiamo l'ultima bandiera rimasta a Roma. Lo perdiamo nella maniera più brutta, ingrata e becera che si poteva immaginare. Una situazione gestita in una maniera vergognosa da quei due signori, dall'asse Boston-Londra. Due persone che non sono mai presenti e pensano solo al business, a vendere hot dog e a trasformare la S-Roma in una squadra di baseball. Io saluto Daniele De Rossi, lo ringrazio per tutto quello che ha dato, perché è romano, della Roma e si è sempre comportato bene. I giocatori passano e la Roma resta. Questa frase è sempre vera, anche quando a lasciarci è uno come Totti o uno come De Rossi. Arrivederci Capitano Futuro. Ma quale futuro? Sabato sera c'è il Sassuolo. Forza Roma! E forza Roma!